ma se lo fa di lì lo fai anche di qua è uguale è uguale come gli ha dato di lì la stessa roba devi solo dargliela un vai da lì e non aspettare quando arrivi lì è tocchi un pelo e la scarichi infatti capito eri giusto era giusto era giusto non gli ha dato più di quel tanto ma era giusto no no il dietro ha toccato lì la cima è devi solo di solo buttarla avanti bravo pelino più di là sei a posto ti mancano quei 10 centimetri ti mancano quei 10 centimetri adesso è uscito a piedi perché sei stato qua tanto è uguale di qua e di là le stesse quando arrivi devi proprio buttarti avanti solo che è di pietra se era di terra non la guardavi neanche non è